Uno dei problemi principali che ho riscontrato durante i miei corsi in aula tra le mie allieve è la difficoltà a proporre una nail art alle loro clienti. Per quale motivo? Perché più tempo impiegano e più dovrebbero farla pagare. E spesso mancano le capacità necessarie per realizzare una nail art facile e veloce. Ho voluto imparare questa tecnica per insegnare alle mie allieve un metodo veloce, facile ed effetto e risolvere così un loro problema. In tante mi avete chiesto questo tutorial. Siete pronti per vederlo? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.